Al buio faccio brutti sogni. Al buio mi sembra di essere morta. Mi sembra di essere rinchiuso in una scatola. Mi sembra di vedere dei colori svurazzanti. Ho un desiderio che il buio diventi luce. Mi sembra di essere morta. 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 Che scoperta! Sono il genio più bravo del mondo! idea ha un'idea illuminante questo è un circuito cioè un posto dove si corre sempre in cerchio l'elettricità corre infatti si chiama corrente un circuito elettrico è come un circuito di formula 1 se apriamo un circuito ferma tutto esistono due tipi di elettricità quella che corre e quella che sta ferma che si chiama elettricità statica i fili della luce portano la corrente nelle case gli uccellini si riposano sui fili della luce non prendono la scossa perché stanno su un filo solo e la corrente va grita perché pigra come l'acqua e vuole fare il giro corto ma se esistesse un uccellino con le gambe talmente lunghe da toccare due fili la corrente la attraverserebbe e diventerebbe un po' l'arrosto l'elettricità può avere tipi diversi di potenza la corrente che c'è dentro la pila è meno potente di quella che c'è dentro la presa del muro quando infilate la spina fate attenzione e tenete le dita al posto giusto mi raccomando flash con la luce si può anche giocare io sono alessandro cruto io sono alessandro cruto io studio il carbonio perché voglio costruire diamanti ah le lampadine che schifezza non hanno futuro tutto è male io costruirò una lampadina che dura 500 ore i cinesi sono dei grandi inventori oltre alle ombre cinesi hanno inventato anche la carta, gli spaghetti e i fuochi d'artificio non sprechiamo la luce buonanotte e buonanotte Grazie a tutti.